Per ritrovare il gusto delle cose vere, ci siamo messi in viaggio. Voglio vivere così. Abbiamo visto le mucche che vivono in questo piccolo territorio. Abbiamo conosciuto gli allevatori che ogni giorno consegnano il loro latte appena avuto in latteria soresina. E alla fine diventa Gran Soresina, un gran capolavoro. Abbiamo visto coi nostri occhi che è tutto vero. Gran a padano, gran soresina. La verità è qui.